Le idee sono nell'aria. Stare al passo con i tempi è difficile, anticiparli è geniale. Nuova Hyundai Veloster, il coupé che rompe le regole del coupé. Un'auto dallo stile unico. Innovativo design asimmetrico, con un carattere dinamico ed audace. Capacità di carico e abitabilità per stile e comfort unici. Ricca di dotazioni per un coupé dal design inconfondibile. Un'emozionante esperienza di guida, unita a praticità con consumi ed emissioni ridotte. Il tutto con l'esclusiva tripla garanzia Hyundai. Nuova Hyundai Veloster. Scopri la sabato 24 e domenica 25 nelle concessionarie Hyundai. Hyundai